Si fa chiamare Sammi, S.A.M.M.I è una bellissima modella di OnlyFans che grazie a questo social riesce ad avere un sacco di soldi. A 22 anni di età e di tampa negli Stati Uniti ha una marea di followers in questa piattaforma per adulti, infatti i suoi contenuti, le foto di video pubblica sono veramente incredibili e piacciono a tanti clienti. La donna usa dei completini abbastanza succinti, da caminera provocante e la modella ha un seguito anche su Instagram e su TikTok, sta letteralmente spopolando. È un profilo utilizzato per lavoro quello che è su OnlyFans, la piattaforma di video EFSODO per eccellenza dove veramente la donna produce una marea di soldi. 2000 dollari per ogni foto, fa anche altri servizi, ossia svolge pulizie domestiche che vengono ad essere svuote dalle stesse in versione caminera. caminera sexy e per pulita casa in mis 8 piuttosto spinta, Sammi da Tampas chiede circa 3.000 dollari. Da Tampas scusatemi chiede circa 3.000 dollari. Insomma, non passi inosservata, su Instagram si fai chiamare sencerli Sammi ed ha un pubblico incredibile, ripeto, formato per lo più quasi tutto da uomini, da ragazzi. Vi ringrazio per l'ascolto e il video di termine qua. Iscrivetevi, commentate. Ciao da Leandro, narratore italiano.